Un pomeriggio trascorso nella natura incontaminata a pochi metri dal mare. La flora e la fauna da vivere e da ammirare e per finire un tramonto mozzafiato. È quello che offre un'escursione al sentiero Goletta di Capodorlando grazie alle associazioni PFM e Sicily North Coast che hanno avuto la gestione del percorso una volta utilizzato dai mercanti per trasportare le merci dall'antico porto di San Gregorio alla località marittima di Capodorlando. Abbiamo deciso di fare la proposta al Comune di Capodorlando di riuscire a utilizzare questo sentiero per scopi turistici, didattici, di vario tipo, anche con le scuole. Vorremmo fare tante attività su questo sentiero. È un sentiero di importanza storica e naturalistica, quindi vogliamo lavorare per questo, per migliorare questo bene che abbiamo. Quante escursioni fate a settimana? Nel periodo estivo un'escursione a settimana, ma comunque come associazione PFM, di cui qua abbiamo la Presidente Elisa Mosca, faremo il servizio guida a richiesta. Tutelare e salvaguardare tutti i beni che abbiamo, non solo qui, ma un po' possiamo dire, tutta la Sicilia è ricca di patrimonio naturalistico, anche storico e culturale. Ed è fondamentale che noi ce ne occupiamo e non solo che ce ne prendiamo cura, ma cerchiamo anche di farlo scoprire e di valorizzarlo. È un po' questo il nostro obiettivo, andare a promuovere e valorizzare questo percorso. Qual è la cosa più bella del sentiero Goletta? Allora, la cosa più bella, io sono di parte, perché comunque sono una naturalista con la particolare passione per la botanica, però è veramente ricco di piante interessanti, di macchia mediterranea e non solo, anche ci sono relitti di querce, le antiche querce che un tempo popolavano le nostre colline, i nostri monti, ma anche tutta la zona di costa, infatti ci sono delle belle roverelle. Preservare la fauna e la natura in generale, quindi anche la flora, è fondamentale, perché la natura, per dirla in termini semplici, è casa nostra. E qualsiasi organismo, che sia esso animale, vegetale o fungino, batteriologico, è parte di un ecosistema, quindi fa parte di un equilibrio che mantiene in piedi tutto come un castello di carte. Basta togliere, basta che una specie si estingua e tutto l'ecosistema ne risente, perché ogni organismo svolge un ruolo all'interno di questo ecosistema. Ho fatto altre escursioni con il PFM e oltre ad esserci l'aspetto della camminata, insomma del trekking, quello sportivo, c'è anche l'aspetto culturale, nel senso che loro arricchiscono tutto il percorso con tantissime informazioni che poi sulla botanica, sull'aspetto geologico, sulla fauna, ora hanno anche l'esperto. E quindi consiglio a tutti queste esperienze.